Ciao a tutti da Roberto Falla e benvenuto alla nuova puntata di 64-bit. Oggi parliamo di alternative. A tutti voi, e anche a me francamente, ogni tanto viene la voglia di vedere se esiste un'alternativa ad una certa applicazione piuttosto che un certo software, magari più economica o perché no, anche gratuita. Chi di noi non ha mai usato programmi per il fotoritrucco? Sappiamo tutti ad esempio che il più famoso è Photoshop, oppure altri tipi di programmi per il montaggio video, ad esempio tutti gli appassionati di video che utilizzano programmi di montaggio. Beh, sappiamo tutti che esistono programmi di alto livello, quindi che hanno un certo costo, anche Photoshop stesso ha un costo anche importante, e poi magari nel mondo di internet così vario esistono altri programmi altrettanto validi che magari non conosciamo e che costano poco, addirittura sono gratuiti. Bene, esiste un sito dove noi possiamo andare a cercare tutte queste alternative. Si chiama alternative2.net. Vi basterà collegarvi al sito e poi cercare il nome del programma dove voi volete trovare un'alternativa. Ad esempio clicchiamo su Photoshop. Cerchiamo quindi un'alternativa Photoshop. Troveremo quindi, verremo indirizzati in una pagina dove ci sarà un elenco di tutta l'alternativa Photoshop, con una piccola descrizione e anche sapremo se è gratuito, open source, quindi a sorgente aperta, dove noi ne conosciamo il nostro, come è stato scritto sostanzialmente la ricetta, o eventualmente se è a costo, se è a pagamento, quanto costa sostanza. Ecco, il relativo costo. Sarà inoltre possibile aprire la scheda del nostro programma, della nostra alternativa. Ad esempio per Photoshop possiamo aprire la scheda che riguarda Gimp e andare a vedere che cosa dice. Ci dice che è un programma gratuito, ci dà una piccola descrizione più approfondita di quella iniziale e poi ci sono anche le recensioni per cercare di capire e di vedere quello che hanno detto gli altri utenti che non hanno utilizzato. Quindi possiamo capire se fa il caso nostro oppure no. Sì, mi direte il sito in inglese, è vero, ma possiamo tradurlo tranquillamente. Se apriamo Chrome, possiamo usare Google Chrome Translate, Google Translate e quindi tradurlo e quindi ce l'avremo anche in italiano. Magari non sarà una traduzione fantastica, però si potrà capire sicuramente il senso di tutto. Migliaia e migliaia di software, di alternative a software importanti, ma anche app per cellulare e anche a siti web. Ad esempio un sito famosissimo, Netflix. Per vedere filmati esistono tantissime alternative nel mondo, soprattutto per chi magari vuole vedere i film in lingua. Alternative ad un costo più grasso, magari ad abbonamenti più lunghi e quindi anche non solamente mensili, ma trimestrali e quindi anche più bassi come costo, addirittura gratuiti. Insomma, sta a voi cercare le alternative che fanno il più al caso vostro. Per oggi è tutto e ricordatevi sempre che un mondo tecnologico e che ci dà la possibilità di scegliere è sempre a 64 bit. Grazie a tutti.